da sparare ancora mi pigli? e come fai? cosa dobbiamo fare? improvviso improvvisate canzone? a non stare ora dunque sono qui un po' tesso diciamo nervosetto perchè sei nervosetto? sono un po' nervoso perchè qui il paese non dà tante possibilità di conoscenze diciamo tra uomo e donna tra me e una donna che io ce l'ho sempre un chiodo qui al cervello perchè mi piace molto l'amore cioè io per me è tutto per me l'amore ma mi piace anche lavorare insomma non è che è solo l'amore ma se mi manca la donna io mi sento un uomo perduto nel senso che soffro sto male fisicamente e moralmente cioè ecco se c'è la donna vicino a me lei per me è tutto il mondo diciamo è una cosa che mi rilansa che mi toglie tutti diciamo questi pensieri strani che mi passano per la testa che non sono tranquillo giustamente ecco è questo che io dico la realtà è questa qua almeno almeno nei miei nei miei confronti e nella mia vita e nella mia personalità giusto? sì sì io per gli altri non lo so perché se insomma gli altri uomini la pensano come loro la pensano io la penso in questo in questo in questa cosa ciao sono un angelo e purtroppo fammi che lo piazzino quando finisce l'incontro eh con Ivan Drago dunque quale signore lei vuole ascoltare? se io cambio tutti voi c'è questo signore che vuole ascoltare questa questa imitazione di Rambo che fa Rocky Rocky ah scusate di Rocky Balboa lei dice se lo cambiate e io cambio tutto il mondo può cambiare e voglio dare un bacio a mio figlio Davide che è a casa e mi sta ascoltando ciao Davide